Il punto Il presidente Valerio Cattaneo ha commemorato in aula il presidente merito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Domenica 29 gennaio è deceduto a Roma il senatore a vita e presidente merito della Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro. Nato a Novara il 9 settembre 1918, Scalfaro ha ricoperto la carica di presidente della Repubblica dal 1992 al 1999. Raggiungendo così il culmine di una carriera in seno alle istituzioni che l'ho visto rivestire numerosi incarichi. E' stato anche presidente della Camera dei Deputati dal 24 aprile 1992 al 25 maggio dello stesso anno. Quando venne ad ampia maggioranza eletto presidente della Repubblica, desidero ricordare che nel novembre 2008 il Consiglio regionale ha organizzato un incontro con il presidente merito della Repubblica al Teatro Regio di Torino per una sua lezione magistralis di fronte a 1300 studenti delle scuole superiori piemontesi in occasione della manifestazione di chiusura delle celebrazioni per i 60 anni della Costituzione Repubblicana. Sulla figura del presidente Scalfaro sentiamo il ricordo di Enrico Nerviani, Novarese, già consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale. E' questo un momento da vivere lontani da ogni retorica, ricordando quello che mi sembra contare di più, l'amore di Scalfaro per la Costituzione. Aveva, come Costituente, contribuito a scriverla e aveva preso con se stesso l'impegno ad osservarla e a servirla per tutta la vita. E così ha fatto, dandosi negli ultimi anni un compito quasi ossessivo, quello di farla conoscere meglio la nostra Carta Costituzionale, in particolare da parte dei giovani. I valori della nostra Costituzione sono da incarnare, diceva spesso, giorno dopo giorno nella nostra vita.